Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Comba commenta, commenta questa serata. Comunque ne stiamo salando, stiamo allestendo il palco per la sadizzata del carnevale Porelli 7.010, ti comunico che... Aspetta, scusa un attimo, scusa un attimo. Vai, continua Comba, dicevi, dicevi, dicevi. Oh, Comba, dicevi, 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 ti stavo dicendo dopo quelle riprese che hai fatto, dopo quelle riprese che hai fatto, a quel culo mazzesco perché ce l'ha enorme, ce l'ha proprio enorme, ce l'ha proprio gigante, ce l'ha proprio grande. Vabbè, non esagerare, siamo sempre su YouTube. No, vabbè, siamo su YouTube, lo so, comunque, stavo dicendo, stiamo allestendo qua gli ultimi preparativi del carnevale Porelli 7.010. Ok, comunichiamo questo discorso, palchetto, stiamo, palco per le presinare, per il tutto, per il tutto, per il tutto, per la musica, per la musica, per la musica, per i dirigenti, stiamo usando le bandierine appese, riprendo le bandierine. Guarda che stiamo, fai vedere tutte le belle bandierine che abbiamo appeso in piazza, ok, ci sono i trampolieri, c'è un gigante, la gigantessa, fai una ripresa a Mimmo Sacrestano dell'Immacolata, Congrega dell'Immacolata. Gli asperi, ripeti, chi è, chi è? Mimmo, Mimmo, Mimmo Pietro Paolo, nonché Sacrestano della Congrega dell'Immacolata, Porelli di Bagnara Calabro, ok. Poi di là ci abbiamo alcuni anzianotti che ci stanno guardando, stanno osservando le nostre operative. Nonché, nonché, chi è, chi è, vieni, vieni, che li intervistiamo. C'è Mastro Gianni, cioè Mastro Gianni, nonché mio nonno, Mastro Gianni, cioè nonché tuo nonno, che si sta guardando gli ultimi operativi, quello che stiamo preparando per il Carnevale Porelles, Mastro Gicco, ok, che stanno guardando i operativi, eccola, fai una bella ripresa, ok, che stanno osservando i nostri operativi per la festa, per il Carnevale Porellesi 2010, ok? Ok, questo siamo noi, un saluto, un saluto, ciao, 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 questa è la piazza in cui si svolgerà il nostro Carnevale Porellesi. Oh, vaffa! Ci vuole del metro, compasso. Oh, gianno gianno. Oh, Ecio, la prima tavola che tocca, vai, questa è una ripresa. La prima tavola che tocca Ecio è Davi Guanto, oh, è manca pigiato. Saluto Messina, Messina, un saluto. Un saluto da Porello Pagliaro a casa. Ok, ci siamo, dai.